E sono partite le elaborazioni di metà mese di reddito e pensione di cittadinanza. Finestra rivolta a rinnovi e nuove domande, presentate a settembre o nei mesi precedenti, a cui seguiranno, dopo il pagamento, anche nuove elaborazioni di assegno unico e universale integrato su RDC. I soliti arretrati sparsi che arrivano a chi sì e a chi no. Nel frattempo, continuano i pagamenti dell'assegno unico e universale a domanda, che, dopo gli accrediti previsti per oggi, 12 ottobre, trovano pubblicazioni anche date future, allo stato attuale fino al 19 e vale la pena precisare che, a quanto pare, le famose maggiorazioni per la disabilità sono già in pagamento per chi ha fatto la domanda da luglio in avanti. Però non sono ancora iniziati i conguagli degli arretrati per le posizioni di assegno unico aperte da marzo o prima di giugno. Ciao amici di Radio Ucci, io sono Giulia e continuiamo la nostra rassegna di oggi su novità e pagamenti, parlando molto rapidamente anche del trattamento integrativo ex bonus Renzi su Naspi in pagamento da 17 in avanti. E no, allo stato attuale non ci sono ancora elaborazioni del bonus 200 euro su Naspi, né per l'ADS agricola, né per nessun'altra delle categorie a cui spettava il pagamento a ottobre. Da circolare, IMSS ha tempo fino al 31 del mese per questi pagamenti. Non appena ci saranno nuovi tali, troverai qui su Radio Ucci, perciò iscriviti e metti like se non vuoi perderle. Passiamo adesso al 24 ottobre, giornata importante per il bonus psicologico, in quanto si chiuderanno le domande per questo contributo e da lì in avanti dovrebbe essere finalmente disponibile la graduatoria per gli accessi. Vale la pena sottolineare che a parità di requisiti saranno favoriti gli ISEI più bassi e nonostante i finanziamenti e rifinanziamenti che ci sono stati, si stima che solo un richiedente su 5 riuscirà ad ottenere il bonus. Arriviamo così a fine mese, quando per il canonico 27, a meno di sorprese di IMSS o di poste, ci sarà l'accredito della ricarica ordinaria di reddito e pensione di cittadinanza del mese di ottobre. Ricarica ordinaria, a cui seguirà l'elaborazione dell'assegno unico e universale integrato su RDC. Rata di settembre o arretrati e per finire una nuova tornata di elaborazione del bonus 200 euro su RDC per alcuni di quelli che non lo hanno ancora ricevuto, non tutti ovviamente, IMSS sta recuperando le elaborazioni a mano a mano. E in ultimo, prima di salutarci, un aggiornamento di natura politica, se vogliamo, sul futuro del reddito di cittadinanza, che può essere modificato ma non abolito. O almeno, è così che si può riassumere la posizione di Giuseppe Conte all'Assemblea dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle di ieri 11 ottobre. Insomma, anche per Conte, chi è idoneo al lavoro deve andare al lavoro. Ma piuttosto che colpevolizzare o penalizzare i percettori, l'idea è quella di riformare tutto il sistema delle politiche attive del lavoro, che a tre anni dalla fondazione del reddito di cittadinanza, ma forse anche da prima, non riescono ad incrociare i due universi di chi cerca lavoro e di chi lo offre. Ma l'ex presidente del Consiglio ribadisce l'opposizione a chiunque abbia intenzione di smantellare il reddito di cittadinanza, soprattutto in un momento di crisi e recessione economica, cosa che emerge anche dal documento programmatico di bilancio. E, oltre al nodo reddito di cittadinanza, nell'intervento chiarisce anche l'intenzione di migliorare il super bonus e la necessità di interventi corposi per aiutare il Paese a superare quest'altra crisi. Per importanti, intendiamo, diversi miliardi di euro. E detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui, se la rassegna ti è piaciuta lascia un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!